ciao a tutti e bentornati ancora una volta su indie gameplay ita eccoci in un altro video un altro resoconto dopo quello del 16 gennaio eccoci al resoconto del 23 di gennaio è stata una buona settimana abbiamo visto tre titoli interessanti iniziamo vedere gtfo un bel cooperativo veramente interessante un ottimo gameplay mi sono divertito e il fatto che il gioco sia in inglese non è un'eccessiva complicazione anche perché abbiamo approfondito un pochino il discorso dell'hacking e l'hacking non è così complesso insomma il gioco è godibile e siamo in una partita fatta successivamente quella registrata quasi riuscite a completare la prima missione quasi quindi questo testimonia un pochino la difficoltà però è stato un gioco che comunque avete a quanto ho visto apprezzato poi abbiamo visto the waylanders un gioco davvero interessante è stato anche condiviso sulla pagina ufficiale degli sviluppatori diciamo questo video è stato condiviso quindi li ringrazio ringrazio anche voi che comunque il gioco sembra esservi piaciuto l'avete visto in tanti e non è un gioco semplice un gioco che è comunque soltanto in inglese quella è un peccato mi ha ricordato molto come alcune meccaniche alcuni movimenti anche dragon age è stato un bel ritorno al passato aspettando ovviamente il prossimo sarà da tenere d'occhio sperando sempre in una traduzione se non ufficiale meno amatoriale però il gioco comunque è ancora in sviluppo e sembra ben fatto non che nonostante abbia ancora comunque dei evidenti problemi poi abbiamo my little blacksmith shop poi andremo a vedere anche i commenti comunque mi scuso perché non ho seguito molto i tutorial e quindi qualcuno di voi mi ha dato dei suggerimenti su come fare ma è un gioco che sicuramente è intrigante e lo porterò avanti a parte insomma da solo però è un gioco che è stato un autentica sorpresa ringrazio anche lo sviluppatore perché comunque ho avuto fiducia a darmi una copia e adesso andiamo a vedere i commenti di questa settimana allora 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 vediamo un attimo se non voglio fuggire con te lol non l'ho capita molto bene ma comunque sì non vuoi fuggire con me perché non siamo fuggiti insomma quindi va bene ti ringrazio giuseppe e ringrazio anche andrea calza che ha detto una cosa che comunque vabbè condivido nel senso che vabbè non sembra uscito una terza media nel senso che a parte quello io vedo tanti youtuber che riempiono il video di parolacce battute idiote e lo vedo tanto e mi danno fastidio io ho un mio stile è sicuramente uno stile impopolare che guardando anche i grafici di quanto io sono cresciuto negli ultimi quattro anni diciamo che non danno ragione al mio stile ma non me ne frega niente onestamente sakamoto mi dice quello che io al fine vi ho detto prima ricorda tanto dragon age come combat system si vede che negli nemici sono sì in effetti fanno venire in anche fable si è vero è vero verissimo studiate l'inglese insomma è un discorso che qua va avanti da da anni ormai e sono dell'idea che se l'inglese non è troppo difficile il gioco giocabile se è un gioco di ruolo uno deve aver tempo e mettersi lì avevo già iniziato che in passato dei giochi molto complessi in inglese ce la facevo era stancante ecco l'unica cosa si lo ringrazio per aver messo in lista mister pepe convinto di aver fatto ovunque cosa gradita averlo portato andrea maffa lo ringrazio 72 lo ringrazio tanto perché un abbonato veramente di vecchissima data e lo ringrazio tanto per il supporto che da continuamente al canale da tenere d'occhio per gli sconti si esatto 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 altra chicca pain script killings si assolutamente dm falconer si ti confermo invece sempre di m che è solo per pad almeno non è giocabile con la tastiera io sono un accanito del sostenitore della tastiera mouse ma lì è veramente dura poi fa una battuta fa paura per me ma parte che non devo neanche leggerlo così devo dirlo normalmente insomma comunque si maramaldi igor sampron si sa quando esce no mister prepper si congratula paolo per la condivisione degli sviluppatori mentre invece lei leo e i basso leo i bassotti insomma dice che devo seguire tutto è in effetti c'hai ragione vi do una info per la settimana prossima dovrò anticipare il video posticipare il lunedì al martedì quindi lunedì ci sarà un video di aggiornamento su un survivor spaziale molto interessante insomma vi farò vedere qualche nuova aggiunta e martedì uscirà invece alle 15 pomeriggio il video che normalmente è lunedì alle ore 8 perché c'è un embargo da rispettare ecco questo sono le news poi la settimana prossima invece proverò un altro format il sabato pubblicherò sempre che non lavori sabato pubblicherò un video di resoconto ma con i migliori giochi del mese quindi tre giochi a settimana quindi 12 giochi andremo ad analizzare quelli che mi sono piaciuti di più quelli che mi sono piaciuti di meno non ha molto senso farlo vedere perché alla fine io ho portato i giochi che ho selezionato però magari vi citerò magari un gioco che necessita magari di un po più di tempo insomma però va bene e anche magari vi dirò anche il gioco che avete visto di più detto questo vi ringrazio un buon weekend a tutti voi e alla prossima